Mi viene da sorridere, io ho chiesto un po' a tutti dove le avesse portate queste dimissioni perché visto che a me non le ha date, a Leone non le ha date, Pavone mi dice che non le ha ricevute quindi non lo so, forse sarà dimesso da solo, però a me non risulta essere arrivati alle dimissioni anche perché per il mio carattere uno che si dimette sicuramente non rimane a Pescara. Quindi adesso? E adesso dovrò parlare con lui perché io ieri purtroppo non c'ero, oggi non l'ho visto, l'ho appena intravisto quindi voglio parlare con lui perché se non è convinto di portare avanti questa squadra se questa squadra è scarsa è giusto che si li metta oggi, non il primo di settembre. No, a me sembra di essere su scherzi a parte veramente perché ci sta tutto, anche che possiamo vederla in maniera diversa anzi, sicuramente la vediamo in maniera diversa, però siccome poi in campo la squadra la mette lui e io non mi sono mai permesso di dire gioca uno o gioca l'altro e quindi si deve prendere i meriti e i demeriti quando le cose non vanno bene perché qui si rischia sempre, ma questo è un mal comune purtroppo di tutto l'ambiente degli allenatori quando le cose van bene sono fenomeni gli allenatori, quando le cose van male e sono i giocatori che non capiscono o il presidente che ha comprato un giocatore sbagliato. Non si fa così, secondo me funziona, un gruppo funziona se si va tutti dalla stessa parte e secondo me Zemanieri non è andato dalla stessa parte. La partita ha dimostrato invece che questo è un gruppo molto forte, noi abbiamo due squadre che possono fare la Serie B, non una perché ce n'è una che è fuori per vari motivi e secondo me a mio avviso c'è bisogno magari qualche volta di dargli una carezza a questi ragazzi e non solo schiaffi perché qui prendiamo schiaffi tutti i giorni, da parte di tutti, da parte del presidente che lo fa molto spesso, da parte dell'allenatore che ci vive tutti i giorni insieme, da parte del pubblico che deve aiutare la squadra quando gioca in casa soprattutto perché poi Sebastiani può essere carabiniere, quello che vuole ma Sebastiani non va in campo quindi possono strellare quando vogliono, l'importante è che danno una mano ai giocatori che vanno in campo perché se è vero che siamo una piazza importante lo dobbiamo dimostrare dando una mano a questi ragazzi. Evidentemente se voleva dargli una sterzata ai ragazzi ci è riuscito ma secondo me questa è una squadra che comunque in questa categoria è sicuramente tra le prime otto in assoluto per organico, per il tipo di gioco che ha, io penso che anche le partite dove non siamo andati bene abbiamo sempre giocato, poi io ieri nel passaggio del mister ho sentito anche un pezzettino di contraddizione perché se questa squadra non gioca poi non si può dire che ci hanno messo sotto solo in tre vuol dire che è una squadra che gioca, vuol dire che è una squadra che è forte che può meritare sicuramente una posizione di classifica diversa i correttivi li deve dare lui perché se li do io poi divento io allenatore ma questa è la dimostrazione che lui fa quello che vuole in campo lui l'allenatore si prende le responsabilità, oggi è andata bene e si prende anche i meriti che è andata bene se magari non andava bene si prendeva i demerito ma il calcio funziona così, meriti e demeriti sono di tutti non sono una volta degli allenatori meriti e i demeriti sono tutti i giocatori del presidente purtroppo, devo ritornare su un aspetto noi continuiamo a dare la colpa agli altri, di tutto la colpa è la nostra perché la situazione che oggi c'era nello stadio l'abbiamo creata noi con quella conferenza stampa di merda che ha fatto ieri, punto questo si vedrà, adesso voglio parlare col mister non è il momento di parlare dell'allenatore non c'è bisogno di scuse perché secondo me da uomini ci si affronta, si parla e si discute su quello che succede se ci sono problemi si affrontano siccome i problemi non ci sono probabilmente in questa società il problema più grosso è che non ci sono i problemi